benvenuti in questo nuovo video svuota la spesa in cui parleremo di sisa e acqua e sapone solo acqua e sapone basta mamma avvicinati sei lontana sono bellissima buongiorno intanto vogliamo ringraziarvi perché ci fanno sempre tanti tanti complimenti per i video svuota la spesa che piacciono piacciono veramente tanto e mi chiedono sempre di farli grazie allora iniziamo da sisa per un prezzo totale di 30 euro e 49 centesimi poche cose quello che ci interessa di più è acqua e sapone i sacchetti per lo spazzatura vabbè iniziamo bene con i sacchetti a spazzatura vabbè e quanti ne tre si tratta per la bellezza di 89 centesimi l'uno poi la polpa della star tre confezioni tre confezioni 0,99 centesimi niente niente proprio regalate mia madre è affarissima non so se l'hai capito dimmi come mi sta il cappellino a me piace tanto io amo i cappelli faccio la collezione mia madre lo so ce l'ho di tutti i colori perché hai il viso il giusto per il cappellino poi yoga ace questo è il zucchero e volevo vedere questo dai un'occhiata così mi dai il tempo di guardare acqua succhi arancia carote zucchero zucchero e dopo sciroppo di glucosa fruttosio ma dico se ci mettono un zucchero perché mettere sciroppo di glucosa fruttosio vabbè mettete solo l'arancia e basta è buono però non ti posso dire la verità è rinfrascante è dolce 1 euro e 40 oggi piole comunque fa schifo si vede che siamo a dicembre i famosi cornetti la bellezza dei tre patti ha detto tutto ne va al prezzo di 2 euro e 49 centesimi patate natalizie questo non lo comprate gente non lo comprate non lo comprate non lo comprate non lo comprate per la bellezza di 6 confezioni 6 6 mini e pozzia ogni atto al prezzo di imbattibile ragazze forse non me l'ha fatto neanche pagare lo scoltrino no vabbè non credo non mi vale il caso 1 euro e 29 poi marmellata di albicocche del marchio sisa puoi continuare a parlare no io te l'ho detto apposta del marchio sisa hai ragione non sempre ragione no non è vero sono scherzata sisa confettura buon prezzo 0,99 centesimi ed è un bel barilono i 370 grammi esatto il dado star classico si 1 euro e 15 vedi come sono veloce a proposito di velocità mi hanno detto che stai diventando pure veloce hai visto mi sto allenando si è ormai sono diventata domo pack mi sa che dopo che mi è giunto questo bel complimento non trovo no sto scherzando 0,99 centesimi comunque se vi piacciono i nostri video condivideteli perché a noi ci fa solo piacere ma non ci non ci scrivono no non è vero scrivetevi dovete farlo perché sennò non facciamo più lo svuota a spese ecco mia madre mi ha minacciato poi fagioli borlotti 0,49 centesimi 2 le bumi a go go eh ragazzi perché in questo periodo fanno benissimo fanno bene tutto l'anno però in questo periodo a maggior ragione sono lenticchie infatti a proposito di ragioni queste sono le giganti io preferisco la minion invece 1 euro 59 due pacchi i panne goccioli esatto 2 euro e 49 10 però all'interno mazza siamo speedy gonzalez sembriamo la ferrari allora tenderli fibre di lino a nuova formula appunto delicatamente profumati quanti i calzolettini e sono 12 pacchetti 0,69 centesimi 2 gratis addirittura 2 ve le regalano la farina per friggere questa è della spadoni addirittura non la trova pensa no l'ho trovata subito mi sembrava 1 euro e 49 centesimi è ottima è ottima per friggere la consiglio se ce ne 500 grammi sì sì perché mia madre si è trovata bene l'avevo già presa che ho trovata tempo fa si è consigliata sempre da parte da me sì ma è ottima la frittura viene perfetta croccante da mt mia madre ha preso proprio due cosine però te le voglio fare vedere così tanto per per stare un pochino di più insieme tanto sono di più d'acqua e sapone come ho già detto 17 euro e 88 centesimi iniziamo dai biscotti questi sono fatti in casa diciamo fatti da da quelli che lavorano lì e dall mt e questi sono con una crema verde però non è pistacchio lo voglio dire l'ho soggiato non è male ma neanche la fine del mondo dei biscotti friabile vuoi sapere il prezzo 2 euro e 71 centesimi due confezioni per panti perché il suo nome è panti io lo chiamo ciccio ma lo chiamiamo in tanti modi ma il nome è panti questo è prosciutto di sullino lo posso dire io con certezza allora ne ho presi due uno costa 1,96 e l'altro costa 1,83 però ci sono quattro fettine 4,5 fettine e ci sono tanti è contentissimo quello è praticamente lui non mangia scatolette quello è fine molto fine banaline il banale costa 1 euro e 43 centesimi crema bel paese sono molto buone sono formaggini sì, formaggini crema bel paese costano pochissimo ce ne sono penso 10 all'interno ma dopo quanto c'è? 0,99 centesimi addirittura io li metto quando faccio il riso all'interno del riso quando finisco la mantecatura ah per mantecare per mantecare per mantecare per mantecare invece di mettere il il formaggio grattugiato il burro esatto e mi preferisco mettere questi che sono più morbide consiglio poi ma ma 1 euro e 59 centesimi e poi mele 2 kg di mele esatto me linda si golden si sono quelle del trentino sono di bellezza ma per quello prendo sempre questo genere 2 euro e 29 d'acqua e sapone invece io ho preso una cosina per l'asciugatrice da un consiglio di Valentina cioè a che mitica ho chiesto consiglio un pochino a delle persone del gruppo telegram che ti lascerò ti lascio qui nell'info box per dare un'occhiata e lei mi ha consigliato questo il profumo a biancheria del dottor Beckham come David Beckham allora il mio problema è il seguente dopo che io lavo i panni e nella lavatrice normale poi vanno nell'asciugatrice che io ti ho mostrato sul mio secondo canale ix in the wonderland e che ti ho recensito appunto lì ti lascio il link qui in alto nelle schede ma purtroppo non profumano cioè le lavo ma non profumano più asciugandosi nell'asciugatrice spero che mi stai capendo quello che sto dicendo vabbè e comunque ho preso questo profumatore sperando nella speranza che questa cosa questo problema si risolva questo è il prodottino e l'ho pagato 4 euro e 20 abbastanza caro e devo dire che non c'è neanche una scelta ampia di prodotti per l'asciugatrice in commercio almeno d'acqua e sapone non c'era niente ora tornando a noi dopo tutta questa pantomima che ti avrò anche annoiato andiamo a quello che ha preso mia madre ed ha speso 34 euro e 13 centesimi eccolo qui no perché hai preso tantissima roba infatti io oggi sono carico io oggi mi aspettavo tu spendessi 50 invece è arrivato alla cassa quello gli ha detto 34 ma vabbè iniziamo da dei bicchieri natalizi ora io li apro perché voglio vedere come sono nel dettaglio e intanto mia madre cerca che bellini mamma guarda che carini cioè belle feste natalizie sono bellissimi usa e getta 1 euro e 10 belli e ce n'è? 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 belli 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 anche il decoro mi piace sempre su questo mood abbiamo la tovaglia che la voglio aprire anche marca bibo si ed è 120 x 180 cm così già tutti i regoli con le misure se ti interessa andarla a comprare è in carta sì però una buona carta quella anti gocce praticamente sembra abbastanza sì io la sto prendo proprio per vedere sparisco aiuto che bella è bellino mamma guarda guarda che bella che è è bellissima è un bel tipo di carta sì è fantastica straconsigliata puzza un pochettino di carta però sì però è bella 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 cioè una ci mette sotto la tovaglia quella in tessuto ci mette sopra questa e almeno se magari cade un pochino d'acqua vino più che altro perché l'acqua non macchia ma il vino e a noi è successo con mio marito se dovesse essere loro lo sanno il consiglio di far andare via una macchia di vino rosso e come si fa con il consiglio è il vino rosso va via il vino bianco ah il vino rosso il vino bianco e quindi ci si mette è una macchia di vino rosso nella tovaglia eh sì sì no ci si mette il vino bianco si strofina si strofina il vino bianco va via la macchia del vino rosso hai capito questo è un piccolo sedetto magari non lo sanno tutti ecco perché non è facile da fare ecco non va via la macchia di vino rosso quanto l'hai pagata questa ma ecco ora ci mi dà il tempo la vado a cercare ah buonissimo prezzo incredibile bel prezzo cavolo vallo a comprare pure tu dico è super conveniente cioè veramente per le feste natalizie è assolutamente è ottima poi sempre della stessa linea i tovaglioli guarda che belli ma mi piacciono un sacco vabbè che io amo tutte le cose natalizie guarda che belli che sono i tovaglioli pensi costano come la tovaglia 99 centesimi però però ci vale di più giustamente la tovaglia queste potevano mettere di meno io le ho presi comunque però sono bellissime che hanno lo stesso colore che hanno lo stesso colore della decorazione della tovaglia sì 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 no solo che questa ha le palline e quella ha i fiori bellissime comunque fantastica bella la linea bibbo natalizia di acqua e sapone due di mentadet white system carbone attivo perché il carbone sbianca i denti si il carbone quello di babone della della befana no aspetta il carbone lo la porta la befana si certo ma anche il babonatola 2 1,90 euro e c'è una rettifica c'è una rettifica c'è una rettifica sì e che cos'era che costava? i tovaglioli scala 99 centesimi come avevo detto io e invece la tovaglia 3,70 euro ah eh no una rettifica bisogna farla certo perché sennò vanno a comprare la tovaglia e non costare quello che ho detto io certo poi assorbenti quanti? 1 l'ines sì 1,10 euro sapone bonocalco nutriente arricchito con olio di mandorla sì 99 centesimi e ce ne sono 3 di profumazione solo e infatti allora questo è il nutriente abbiamo detto l'olio di mandorla questo è al profumo di borotalco idratante mentre l'ultimo è antibatterico igienizzante al muschio bianco dash pods ti devo dire che sicuramente avrai visto la pubblicità che c'era l'offerta di 60 capsule quindi 30 e 30 a 9 euro e 90 mi pare comunque come diva come prezzo ma siccome a me la profumazione questa qua semplice non mi piace ma mi piace quella la lavanda io non l'ho comprato invece mia madre ha preso questo semplice e basta senza l'offerta esatto però mi pare che anche questo è un ottimo prezzo perché ne sono 30 mi pare che anche questa era in offerta anche se era di 30 e non era il doppio di 60 era in offerta perché di solito costa 6 euro questo mi pare e questo perché ce ne sono 30 all'interno 4 euro 69 centesimi visto quindi l'ho pagato di meno bioform disinfettante per il bucato pulisce in profondità elimina lo sporco e cattivi odori disinfetta la biocchia e il bucato questo 1 euro 75 venus intimo delicato 3 60 centesimi questo shampoo te l'ho fatto vedere nel mio scorso video su quanto alla spesa e ti devo dire che io mi sono trovata molto bene i capelli li lascia puliti a lungo ed essendo anche uno shampoo che è bio devo dire che fa schiuma perché ci sono quelli biologici che non fanno schiuma no questo invece fa la giusta schiuma ed è il sun silk zero parabeni zero silicone coloranti tè verde e limone te lo consiglio perché ripeto l'ho provato io è consigliato meglio infatti 2 euro e 19 centesimi è un buon prezzo anche poi abbiamo il sole piatti gel ultra concentrato limone verde super sgrassante a freddo che bello sto verde che è 1 euro e 20 questo non è perciccio per tanti sì questo è per lui perché ha pollo ci sono piaciuti l'altra volta e glielo ho ricomprati oggi ah ha cambiato allora un po' sta variando un pochettino croccantini con pollo perché lui di solito prendeva il manzo il manzo miglior gatto esatto 70 centesimi e il pandello con la mia maglia poi abbiamo il duo power ultra sgrassatore potente sullo sporco ostinato pulito senza fatica profumazione ovviamente prova a indovinare lavanda niente 95 centesimi questo qua invece è l'isoform ideale per ambiente con animali pulito sicuro molti superfici detergenti aiutano aiuto a rimuovere germi e allergeni io oggi non so parlare perché il tempo fa schifo 3 euro e 50 un po' caro però l'ho comprato e ho provato infatti vediamo come 3 euro e 50 è un certo che è caro 450 ml abbastanza sì però se poi è efficace mamma speriamo sempre della marca Scala che carino sta bambino 2 tovaglioli 2 pacchi sì 0,99 centesimi in ultimo abbiamo il bit tutto ok prezzo e qualità 4 ruotoli 0,99 anche loro bene questo video termina qui spero che ti abbiamo tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video spesa suona la spesa ciao mandi a tutti ciao